Porpora fase 3. Sollevamento gambe in posizione retta. Questo esercizio sviluppa l'equilibrio e il controllo del tronco e rafforza i muscoli dei glutei. Questo facile esercizio può essere inserito nell'arco della giornata mentre si lavano i denti o si attende in coda. Posizionarsi in piedi a una sedia o un sostegno. Contrarre i muscoli profondi della pancia, quindi sollevare lentamente una gamba all'indietro. Sollevare solo di poco e contrarre i muscoli dei glutei. Mantenere tronco e parte superiore del corpo eretti e fermi. Contrarre forte i muscoli dei glutei e sollevare la gamba in piccoli movimenti pulsanti. Ripetere da 5 a 10 volte e 2 volte su ogni lato. Grazie a tutti.